Buongiorno a tutti oggi preparo una lasagna con i funghi mi occorre mezzo chilo di lasagna 800 grammi di porcini freschi olio quanto basta 100 grammi di formaggio grattugiato aglio e prezzemolo quanto basta pepe quanto basta per la besciamella 800 ml di latte 60 grammi di burro un pizzico di sale 50 grammi di farina noce moscata inizio la preparazione metti i funghi nella padella metto 3 spicchi d'aglio olio quanto basta sale e li porto sul fuoco a cuocere metti il pepe facciamo cuocere per 10 minuti aggiungiamo il prezzemolo ora che sono passati 10 minuti lascia un po di sughetto non li lasciate asciutti spengo e tolgo l'aglio ora li faccio raffreddare preparo la besciamella metto il burro in una pentola e lo faccio sciogliere una volta sciolti il burro metto la farina sempre mescolando aggiungo un latte metto il sale un po di noce moscata e faccio addensare non la faccio addensare troppo la lascia un po liquida così la facciamo intiepidire questa lasagna l'ho fatta io trovate il video qui preparati tutti gli ingredienti inizia a comporre la lasagna metto un pochino d'olio nella teglia e metto la besciamella ora metti i fogli di pasta che già sono precotti a questo punto mischio besciamella e funghi e inizia a metterli sulla pasta copro tutto metti il formaggio e faccio l'altro strato e Grazie a tutti. Concludiamo con la besciamella e i funghi. E il formaggio. Una volta finita la vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 fino a cottura. Dopo 45 minuti eccola pronta. Eccola pronta da gustare. Grazie della visione e alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.